mi piace la gente che vibra che non devi continuamente sollecitare e alla quale non c'è bisogno di dire cosa fare perché sa quello che bisogna fare e lo fa in meno tempo di quanto sperato mi piace la gente che sa misurare le conseguenze delle proprie azioni la gente che non lascia le soluzioni al caso mi piace la gente giusta e rigorosa sia con gli altri che con se stessa purché non perda di vista che siamo umani e che possiamo sbagliare mi piace la gente che pensa che il lavoro in equip fra amici è più produttivo dei caotici sforzi individuali mi piace la gente che conosce l'importanza dell'allegria mi piace la gente sincera e franca capace di opporsi con argomenti sereni e ragionevoli mi piace la gente di buon senso quella che non manda giù tutto quella che non si vergogna di riconoscere che non sa qualcosa così è sbagliata mi piace la gente che nell'accettare i suoi errori si sforza genuinamente di non ripeterli mi piace la gente capace di criticarmi costruttivamente e a viso aperto questi li chiamo i miei amici mi piace la gente fedele e caparbia che non si scoraggia quando si tratta di perseguire traguardi e idee mi piace la gente che lavora per dei risultati con gente come questa mi impegno a qualsiasi impresa giacché per il solo fatto di averla al mio fianco mi considero ben ricompensato grazie a tutti